Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di università perché il rettore di Unimol Gian Maria Palmieri ha preannunciato importanti novità per il nuovo anno accademico, tra cui giochi universitari e soprattutto la firma di un protocollo d'intesa con la Regione per consentire l'accesso a pieno titolo di studenti e docenti della Facoltà di Medicina nei reparti del Cardarelli. Continua il trend di crescita delle iscrizioni alla nostra Facoltà, ha detto Palmieri, che ha parlato anche delle prossime elezioni politiche. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. Dopo quattro anni passati al vertice dell'Unimol, il rettore Gian Maria Palmieri, a dispetto della sua serafica calma che è solo apparente, elenca con passione e orgoglio tipiche di un novizio tutte le prestigiose iniziative predisposte per l'anno accademico appena cominciato e non disdegna di parlare neanche di politica senza smentire alcuni osservatori che lo danno candidato al Parlamento. È iniziato un nuovo anno accademico con quali obiettivi? Ma gli obiettivi sono quelli di mettere a disposizione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti un servizio sempre più efficiente, un servizio che possa offrire loro formazione, tempo libero, svago, socialità e l'Università di Studi del Molise fortunatamente è in condizioni di farlo. Lei ha detto alle matricole nei giorni passati che avete fatto una scelta vincente. Perché vincente? Per i giovani di questo territorio o delle aree limitrofe la scelta di Unimole è una scelta vincente perché si possono formare bene e possono conseguire il titolo di studio presto con costi anche contenuti. Iscrizioni al nuovo anno accademico ancora in corso, come stanno andando? Molto bene, non dobbiamo dimenticare che veniamo da un trend ascendente, l'ascesa continua, forti della nostra offerta formativa, della nostra qualità e quest'anno anche di questo servizio dei trasporti che sta avendo un grandissimo successo ma era prevedibile perché le famiglie di questo territorio hanno bisogno anche di essere sostenute. Quando scadranno le iscrizioni? Le iscrizioni scadono il 16 di ottobre, dopo ci si può iscrivere con una piccola mora e quindi c'è ancora una finestra aperta. In itinere un protocollo di intesa con la Regione per la Facoltà di Medicina, di che si tratta? Ma il nostro obiettivo è stato sempre quello di mettere a disposizione del servizio sanitario regionale, personale e medico di grande qualità. L'Università è in grado di reclutare medici di grande qualità, lo abbiamo già fatto, lo faremo. Ci sono professionalità importantissime in Italia che vogliono venire qui da noi perché hanno la possibilità di colmare dei vuoti che comunque esistono nell'organico medico pubblico pur essendo in questa Regione presenti e professionalità di grandissimo livello. Obiettivo del 2018 è anche i giochi universitari per il quale ha assegnato un incarico all'ECSE questore pagano. Sì, è un'occasione straordinaria, dovremmo essere tutti molto contenti di questa manifestazione che porterà in Molise, ci auguriamo perché l'assegnazione ufficiale la dobbiamo ancora avere, moltissimi giovani universitari da tutta Italia, è una vetrina importante per noi, per questo territorio. Raffaele Pagano ci darà, ne sono convinto, una grossa mano. Qualche osservatore ha parlato anche di un Palmieri possibile candidato alle prossime elezioni politiche. Lei che dice su questo? Ma ricopre un ruolo importante in questa Regione, essendo il Rettore dell'Università e, come dire, fisiologico che io venga coinvolto in queste discussioni. Io mi limito a dire soltanto che il ruolo di Rettore è un ruolo politico, quindi io già sono impegnato, questo è quello che mi sento di dire. 134.500 euro all'anno più oneri. Abbiamo cambiato argomento e stiamo parlando dell'esorbitante cifra imposta dal Governo nazionale alla Regione Molise per il pagamento delle spettanze dovute al subcommissario ad acta per la sanità, il dottor Gerardo Di Martino. Dopo l'approvazione per legge del programma operativo straordinario, la spesa, tutta a carico della nostra Regione, risulta un paradosso ingiustificabile. Ce ne parla Pasquale Di Bello. Chiamatelo paradosso, chiamatela contraddizione, ma la sostanza non cambia. Siamo sempre davanti al consueto mistero uno dei tanti che attraversano la sanità molisana. Fitto come la muraglia cinese, il sistema costruito da frattura con la complicità del Governo nazionale è una sorta di casa matta alla quale ben pochi hanno accesso. Tra questi c'è il subcommissario ad acta per la sanità, il dottor Gerardo Di Martino, che dal maggio 2015, nominato dal Governo Renzi, occupa una delle poltrone più costose del sistema sanitario molisano. Occorrono per le sue spettanze ben 134.500 euro all'anno, quattrini che gravano tutti, dal primo all'ultimo, sul bilancio della Regione. Già l'idea di spendere altri soldi per pagare un funzionario il cui compito dovrebbe essere proprio quello di vigilare, seguire e coadiuvare piani di riduzione della spesa è un paradosso o una contraddizione difficile da digerire. Il fatto poi di pagarlo in anticipo in una sanità che paga tutto a rilento e quando oramai i giochi sono fatti rappresenta una spesa lunare della quale qualcuno dovrebbe dar conto ai molisani. E cosa nota infatti che il percorso disastroso del piano operativo straordinario per il riordino della sanità molisana si sia chiuso prima dell'estate con l'approvazione della manovra di bilancio nazionale. Con un emendamento studiato a tavolino dalla perfidia occhiuta di qualche azzecca garbugli nazionale in combutta con qualche stregone locale del diritto, il Governo Gentiloni ha approvato per legge il piano frattura sanando tutti gli atti compiuti dal commissario ad acta. L'articolo 34 bis, questo è il numero della perfidia, ha tenuto campo per giorni tra le cronache regionali. Ora, fatto il piano, che oggi è legge dello Stato, c'è da chiedersi quale sia l'utilità di un subcommissario posto che anche il commissario stesso comincia a stare stretto ai molisani. Domanda che si fa ancora più pressante se si pensa che gli zelanti funzionari regionali non perdono tempo nei pagamenti liquidando le spettanze non a fine lavoro, come avviene per tutti i mortali, ma addirittura in anticipo come se si trattasse di un canone di locazione. L'esempio relativo al dottor Di Martino è Lampante, con Determina 402 del 2 ottobre 2017. Il Direttore Generale della Salute, Lolita Gallo, impegna la somma di 12.155,26 euro per pagare le spettanze relative al mese di ottobre, rinviando ad un successivo atto la liquidazione in favore del dottor Di Martino. Bene, sapete a quando è stato rinviato l'atto successivo? Al giorno dopo. È sempre Lolita Gallo che con Determina numero 403 del 3 ottobre 2017 liquida il dovuto disponendo il relativo bonifico sul conto del dottor Di Martino. Quest'ultimo, ovviamente, con un ampio inchino, ringrazia. I comuni mortali vengono pagati a fine mese, lui all'inizio, ma Di Martino, sia chiaro, non ha colpa. La colpa è di una regione fuori controllo che ammette, favorisce e alimenta privilegi odiosi e ingiustificabili. La nuova promessa tradita della regione molise si chiama Welfare to Work e prometteva bonus alle aziende che avrebbero assunto lavoratori svantaggiati, ma dopo cinque anni è la denuncia del Movimento 5 Stelle. Gli aventi diritto non hanno avuto neanche un euro. Abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio regionale, hanno detto Manzo e Federico, chiedendo al governatore Frattura e all'assessore Carlo Veneziale quando è che abbiano intenzione di sbloccare i pagamenti per le aziende risultate beneficiarie. Un polverone con relativo allarme generale per le foto diffuse su internet da Andrea Greco, un grillino di Agnone, che ha parlato di rischio imminente per le condizioni del viadotto Sente, uno dei più alti d'Europa che collega Agnone a Belmonte. L'assessore della provincia di Sernia, Matticoli, ha addirittura preannunciato querela per procurato allarme. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. E il viadotto Sente è uno dei più alti d'Europa e collega Agnone con Belmonte, ma ieri ha davvero rischiato di crollare, si fa per dire, sotto il fuoco incrociato di accuse e controaccuse. Si è infatti alzato un vero e proprio polverone mediatico, alimentato soprattutto su Facebook, dalle foto diffuse da Andrea Greco, un giovane agnonese, esponente del Movimento 5 Stelle, foto che mostravano le spaccature del tracciato stradale del viadotto Sente e addirittura lo scollamento di un pilone dello stesso viadotto. Poi, a mente fredda e dopo le spiegazioni arrivate dall'assessore provinciale Mike Matticoli, si è capito che le spaccature o congiunzioni del ponte sono necessarie e fisiologiche per sopportare lo sbalzo delle temperature, come succede con i binari della ferrovia, mentre il pilone laterale, che sembra fuoriuscito dalla struttura di sostegno del viadotto, non è altro che un manufatto in cemento armato che è servito per spostare il carroponte utilizzato per la costruzione del viadotto stesso. Insomma, non è uno dei piloni di sostegno della struttura, ma solo un reperto del cantiere di costruzione lasciato in piedi per manutenzioni future. Matticoli, in un suo comunicato, condanna la condotta tenuta da chi ha diffuso tali notizie e ha mandato in rete i filmati e le foto dei pilastri, sostenendo che gli stessi si sarebbero staccati dal viadotto, ingenerando nella popolazione la paura di un imminente disastro. Sempre Matticoli, a nome della provincia, preannuncia anche un'azione legale contro una condotta che appare quella prevista e punita dal codice penale come reato di procurato allarme. E l'assessore dice che l'amministrazione provinciale provvederà a sporgere querela, affinché l'autorità giudiziaria competente possa valutare eventuali ipotesi di reato in capo e responsabili di tali false notizie. Fin qui la provincia responsabile del viadotto, sull'altra sponda Andrea Greco, si difende così. A seguito di un servizio giornalistico, in tanti si sono preoccupati, compreso il sottoscritto. Quegli spazi aperti sui giunti del ponte Sente, a 185 metri di altezza, non sono certo una cosa confortante per chi, come me, quel viadotto lo percorre regolarmente. A seguito di quel servizio ho fatto varie denunce a mezzo web sull'argomento e sono stato per ben due volte, sia sopra che sotto il ponte. Tra le altre cose che ho segnalato, c'era il distaccamento di un pilone, un fatto terrificante alla vista, che mi ha posto subito in massima allerta, dati i problemi già riscontrati sul viadotto. In realtà il pilone fotografato viene definito pilone di servizio, ovvero serve durante la costruzione del viadotto, aspetto che ho appurato anche a seguito di un colloquio con due ingegneri. Quindi nessun pericolo può derivare dal distaccamento di quel pilone. Quindi, alla fine, la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Greco ammette di essersi sbagliato, segnalando il distacco del pilone. Ma prima di diffondere le foto e scatenare l'allarme, replicano dalla provincia. Il grillino avrebbe dovuto informarsi. Il Comitato Donne e Politica è intervenuto sulla riforma della legge elettorale. L'argomento è stato affrontato nel corso di un incontro che si è svolto a Isernia con Michele Iorio. Una legge elettorale non può essere cucita su misura a seconda degli interessi dei governi uscenti, ma tarata sulle esigenze dei territori, ha detto il Comitato. Un punto da affrontare inaccettabile è l'eliminazione del voto disgiunto. Concordiamo invece sull'eliminazione del listino maggioritario, anche se a livello nazionale, con le cosiddette liste bloccate, si va in tutt'altra direzione. Questo è quanto ha concluso il Comitato Donne e Politica. È stato inaugurato l'anno scolastico a Torella del Sannio, nella scuola antisismica inaugurata all'indomani del terremoto del 2002. Il sindaco Antonio Lombardi ha invitato il prefetto e le autorità scolastiche. C'era per noi Cristina Nero. Antonio Lombardi, sindaco di Torella del Sannio, inaugurazione in grande stile quest'anno dell'anno scolastico. Come tutte le cose che faccio io, visto che sono stato eletto per la quinta volta, non consecutiva, allora mi primeva l'obbligo, ma l'ho fatto con piacere, di inaugurare l'anno scolastico alla presenza del prefetto, che è la massima autorità dello scato, la Sabatini, che ha un po' di ritardo, ma comunque con il provveditore Colombo e il dirigente Facciano. Sempre alla grande, ovviamente. Lei ha grandi progetti per questa scuola. Ci parlava poco fa di un'ala che vorrebbe utilizzare come segretaria didattica. Qualora questo non dovesse accadere? Io l'avevo fatta nel penultimo mandato, praticamente di aver costruito una malla lattico sopra, pari a 500 metri quadrati, per ospitare la direzione didattica. Poi non è stato possibile perché qualche personaggio potente, politico, più di me, praticamente mi ha buggerato e l'ha portata in un altro paese. In questo caso a Baranelli. Però comunque adesso voglio mettere a disposizione le aule, questi 500 metri quadrati, per attività didattiche, geografia, storia, cultura, insomma, per la scuola di Torella e dei paesi limitrofi. Altrimenti lei pensa anche all'università. Beh, la metto a disposizione all'università. Hai visto mai praticamente una facoltà attuale a del Sannio? Sarebbe uno dei miei sogni, praticamente. Che prima o poi penso che si può anche attuare. Una facoltà dell'università di Torella del Sannio. È una cosa grandiosa. Senta, i piccoli comuni soffrono molto, gli antilocali, perché il periodo è quello che è. Il suo comune, in che condizioni si trova? Il mio comune, fortunatamente, non soffre. Grazie alla scuola, grazie a chi si è interessato per fare una scuola sicura, innanzitutto, piena di tutti i certificati. Una delle poche scuole che ha il certificato antincendio, cosa che le altre scuole probabilmente non ce l'hanno. La scuola di Torella ce l'ha. Sicura da tutti i punti di vista, sismici, culturali e tutto, praticamente. Torella si sta bene. Io invito tutti a venire a scuola Torella, anche se mi costa molto, perché chiaramente, però, ci arricchisce come cultura e come vita, soprattutto. Quanti comuni vengono in questa scuola? Vengono sei comuni al comune, al palesto di Torella. Siamo quasi su 200 ragazzi, quindi, insomma, un paese di 900 anni, ma con 200 ragazzi per me è stato veramente un obiettivo che nessuno ci sarebbe arrivato. Noi ci siamo arrivati, io e grazie alle mie amministrazioni. Scuola dell'infanzia e scuola primaria, quali sono questi comuni? I comuni, praticamente, c'è Pietracupa, Cazzo Pignano, Casal Ciprano, Duronia, Molise, San Pietro in Valle, Frosolona, anche se c'è stato qualche tempo fa un piccolo dibattito, ma comunque, praticamente, c'è anche Frosolone che viene a Torella. E noi possiamo ospitare ancora altri ragazzi. Ripeto, ci abbiamo questi 500 metri quadrati che, comunque, in qualche maniera, bisogna riempirli di ragazzi. Ed è stata inaugurata a Larino la fiera ad ottobre, arrivata alla 275esima edizione, più di 100 le aziende con oltre 7.000 metri quadrati di esposizione. Si potrà visitare la fiera dedicata all'agricoltura, all'artigianato, al commercio e all'enogastronomia fino a domenica. Il servizio è di Manuela Iorio. Oltre 7.000 metri quadrati di esposizione, più di 100 aziende dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'enogastronomia. È stata inaugurata la 275esima edizione della fiera di ottobre di Larino, che quest'anno, per l'ultima volta, è stata allestita nel campo sportivo. Dal prossimo anno, infatti, si sposterà nell'area fiera di Contrada Monte Arcano, dove i lavori sono ormai agli sgoccioli. Diversi sindaci del Basso Molise che hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione. A sorpresa, dopo due anni di assenza, è arrivato anche il governatore Paolo Di Laura Frattura. Benedizione affidata a Don Antonio, poi l'Inno d'Italia eseguito dalla banda, e infine il taglio del nastro tra gli applausi. Quindi la tradizionale passeggiata inaugurale tra gli stand della fiera. I lavori per il nuovo quartiere fieristico ormai volgono al termine, è roba di giorni, quindi diciamo che massimo per fine mese verranno consegnate le chiavi. Il che vuol dire che finalmente, per l'ultimo anno, la fiera si fa qui nella vecchia struttura del campo sportivo. E come promessa a inizio mandato, regaliamo alla città di Larino, anzi ci regaliamo noi tutti i larinesi, una nuova struttura moderna ed efficiente, dove la fiera potrà fare altri 275 anni e potrà crescere, svilupparsi e creare ricchezza, per Larino ma anche per l'intera regione. Ricco il programma di eventi fino a domenica, con due convegni dedicati all'olio e all'olivicoltura, al turismo rurale e alla presentazione del nuovo polo fieristico. Tra le novità di questa edizione è un'area dedicata ai prodotti locali e curata proprio dal comune di Larino. Quest'anno la grande novità è che c'è un padiglione enogastronomico allestito completamente dal comune di Larino, in collaborazione ovviamente con le aziende del territorio. E questo perché la fiera d'ottobre è e deve continuare ad essere il punto di riferimento e di valorizzazione di quello che è il nostro territorio, dei prodotti di nostra produzione. Soltanto scommettendo su questi nostri prodotti, su queste nostre risorse, credo che Larino e il Molise tutto può vincere. Fino a venerdì la fiera potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21. Sabato e domenica invece ci sarà orario continuato dalle 9 alle 21, 2 euro il costo del biglietto. Un'auto si è ribaltata con due ragazzi a bordo sulla provinciale 148 al Bivio di Santa Croce di Magliano Nord. L'incidente si è verificato questa mattina. Il conducente, un giovane di 20 anni, si trovava in compagnia di una 29enne quando la vettura, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è cappottata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i militari della locale stazione per i rilievi stradali. I due feriti sono stati trasportati al Santimoteo di Termoli dove sono stati medicati. I sanitari hanno riscontrato politraumi. Le novità termiche e normative dell'ISE è l'indicatore per valutare la situazione economica delle famiglie al centro del seminario che si è svolto all'università nell'Aula Magna di giurisprudenza a Campobasso. C'era per noi Tonino Danese. L'ISE è l'indicatore, lo strumento per misurare la situazione economica dei nuclei familiari che ad esempio intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Adesso c'è il nuovo ISE e la direzione regionale dell'Inps con il patrocinio dell'Unimol ha organizzato nell'Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza a Campobasso un seminario per illustrare proprio le novità normative con Maria Grazia Botturi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esperta sull'argomento. Alcuni dati vengono inseriti direttamente da agenzia delle entrate come reddito complessivo, reddito da lavoro dipendente o da pensione mentre i trattamenti assistenziali, previdenziali e indenitari non soggetti ad IRPEF vengono direttamente inseriti dall'Inps quindi dal nostro istituto quindi la fase del controllo è sicuramente più efficace perché non abbiamo più una DSU autodichiarata completamente per non parlare poi della segnalazione delle omissioni e difformità rilevate da agenzia delle entrate anche quello è un controllo su dei dati autodichiarati dal soggetto quindi questo fa sì che le prestazioni sociali agevolate vadano sicuramente a chi ne ha effettivamente diritto si è semplificato molto innanzitutto faccio presente che ci sono delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione che aiutano molto il cittadino in questo senso quindi la compilazione della dichiarazione è sicuramente agevolata sotto questo profilo ed è migliorata moltissimo un seminario a cui sono stati invitati tutti coloro che sono interessati alla gestione delle dichiarazioni ISEE sono intervenuti anche il De Caroli Casavola docente di istituzioni di diritto pubblico all'Unimol e il direttore regionale dell'Inps Elio Rivezzi un seminario importante perché l'ISEE ormai determina tutte le prestazioni di carattere sociale e interagiscono in questo ambito l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, i CAF, i padronati ed è naturalmente un istituto che si è evoluto negli anni le ultime modifiche normative vanno dal 2013 al 2016 che ne hanno sostanzialmente modificato l'impianto complessivo che prima si basava esclusivamente sulle autodichiarazioni degli interessati ora molti elementi vengono alimentati da fonti pubbliche Rivezzi è da poco al vertice dell'Inps regionale Il mio obiettivo prioritario è quello intanto di continuare quello che di ottimo è stato già fatto in questa regione e di rafforzare quelle sinergie che già esistono con operatori pubblici e privati e di crearne anche altre perché dobbiamo uscire fuori dal concetto che l'operatore pubblico opera in base alle emergenze che si determina noi dobbiamo prevenire i bisogni dobbiamo essere proattivi e metterci al servizio delle persone Continuano le iniziative promosse dall'Avis di Santa Croce di Magliano e dedicate alle attività di prevenzione, urologia e patologie maschili e femminili il tema al centro dell'incontro organizzato alla Casa della Salute del Paese Il programma ha previsto gli interventi del presidente di sezione Flaviano Alfieri del sindaco Donato D'Ambrosio del direttore del distretto sanitario Giovanni Giorgetta e della responsabile del poliambulatorio di Larino Marinella Mazzocco La relazione è stata affidata all'urologo Giovanni Lombardi in tanti hanno seguito l'evento rinnovando l'impegno per promuovere progetti di prevenzione a tutti i livelli Si è parlato dei giovani e delle cause che finiscono per allontanarli dalla Chiesa durante la cerimonia inaugurale dell'undicesimo anno di attività della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Isernia Venafro C'era per noi Sergio Di Vincenzo Il rapporto tra i giovani e la fede è stato questo il tema portante della relazione del Vescovo della Diocesi di Isernia Venafro Monsignor Camillo Cibotti presentata durante l'incontro che ha dato il via alle attività della Scuola di Formazione Teologico-Pastorale una scelta non casuale visto che lo stesso argomento sarà affrontato durante il prossimo Sinodo dei Vescovi Alcune interviste raccolte tra i ragazzi hanno comunque già offerto ampi spunti per riflettere e fare autocritica Quello che hanno detto i giovani è molto forte, molto duro e fondamentalmente chiedono al clero, ai sacerdoti, alle suore di essere più in mezzo a loro di non attendere che siano loro ad avvenire non arroccarsi su presunte realtà di prestigio che allontana i giovani e poi ecco ciò che forse proviene anche da notizie che sono in campo nazionale e internazionale il problema ecco del comportamento morale di molti sacerdoti e poi ecco l'esempio di Francesco che viene portato diciamo a bandiera per tutti coloro che vogliono essere veramente chiesa quindi è sottinteso che il modello deve essere quello di Francesco Nata 11 anni fa con l'obiettivo di offrire ai fedeli laici della diocesi un'occasione per approfondire il proprio cammino di fede la scuola di formazione teologico-pastorale rappresenta oggi un irrinunciabile punto di riferimento per tutti dagli educatori ai catechisti dagli operatori pastorali a quelli che si occupano di canti liturgici dopo la nomina a Vescovo di Trivento di Monsignor Claudio Palumbo la direzione della scuola è stata affidata a Franazzario Vasciarelli io mi propongo insieme ai professori agli alunni di continuare il bene già fatto quindi la conoscenza della teologia in vista della pastorale quindi gli elementi teologici che vanno approfonditi perché possiamo e si possa lavorare all'interno delle parrocchie con competenza e penso che sia anche importante sottolineare due aspetti che sono quelli della catechesi quindi anche per chi lavora nel mondo della catechesi e il mondo della musica sacra abbiamo diversi obiettivi anche li andremo anche a perfezionare in corso d'opera quindi coinvolgere il mondo dei giovani in un discorso più ampio di chiesa Una mostra collettiva è aperta al pubblico fino al 18 ottobre presso la Galleria Marotta dell'Università degli Studi del Molise esposte le opere di tre artisti molisani Michele Pieri, Valentino Robbio e Antonio Tramontano sentiamo Pierluigi Boragine La mostra cura di Lorenzo Canova, Pier Nicola Maria Di Iorio e Tommaso Evangelista sarà aperta al pubblico fino al 18 ottobre presso il secondo edificio polifunzionale dell'Unimol in via De Sanctis a Campobasso sconfini, impressioni dal margine il titolo della collettiva una raccolta eterogenea di ricerche pittoriche, installative e fotografiche dei tre artisti molisani Michele Peri, Valentino Robbio e Antonio Tramontano La mostra intende indagare la dimensione virtuale del margine inteso quale luogo vitale della forma la costruzione del senso che avviene sul limite di questo confine indefinito comporta un perenne scarto tra visibile e velato ovvero un senso precario della presenza la chiusura dei confini dell'opera d'arte subisce piccole crisi che si svolgono sui margini della rappresentazione la collettiva è altresì un invito alla contemplazione dell'inutile dello sconfine della materia che si fa ricordo e corrode lo spazio dello spettacolo attraverso l'indagine scomposta della fine la mostra infine si pone in linea di continuità con due storiche mostre organizzate nel capoluogo di regione negli anni 80 curate da Massimo Bignardi il perimetro del vento e i margini del segno entrambe incentrate sull'idea di una rappresentazione espansa e sulla decostruzione dello spazio è una mostra che raccoglie appunto la creatività interessante e fervida di tre artisti attivi in Molise che lavorano con la fotografia, con la pittura, con le installazioni e con la scultura è davvero bello vedere come presenze come queste di questi tre artisti diano una nota intensa diciamo alla creatività di un luogo che normalmente è poco conosciuto a livello nazionale e internazionale ma che invece rivela sempre delle sorprese molto interessanti è un compito dell'Università del Molise che è proprio sul territorio di scoprire e valorizzare artisti come questi quindi io invito tutti a vedere la mostra che sarà aperta fino al 18 di ottobre per scoprire la qualità delle creazioni di questi artisti che con vari media stanno costruendo e dando senso al nostro mondo contemporaneo Era l'ultimo servizio, siamo in chiusura ma vi ricordo prima la tre giorni da vivere insieme con i colori e i sapori ovviamente la birra originale dell'October Fest l'iniziativa si sta svolgendo a Ripali Mosani è iniziata questa sera e si conclude sabato nella piazza centrale del paese è prevista anche musica dal vivo mentre sabato sera è atteso l'arrivo della street band Sassi Funky termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale e grazie perché scegliete Telemolise, buonanotte